Guardi, io ho capito in questi giorni che i mercati vogliono molto più bene all'Italia di quanto ne voglia l'Unione Europea. L'ho detto anche dentro e continuo a dirlo. Per quanto mi riguarda, l'Unione Europea, se vuole dialogare con noi, noi ci accampiamo a Bruxelles e dialoghiamo per giorni, settimane, quanto tempo vogliono loro. Ma se c'è un pregiudizio non abbiamo speranza. E allora, se io devo decidere tra gente che ha un pregiudizio sull'Italia e i cittadini italiani, io scelgo sempre i cittadini italiani, quota 100 per superare la Fornero, il reddito di cittadinanza, gli aiuti alle imprese, l'eliminazione della burocrazia e i rimborsi ai truffati delle banche. E tutti questi principi aiuteranno principalmente il Sud. Tutte queste iniziative, il superamento della Fornero, il reddito di cittadinanza, gli interventi per i truffati delle banche, la sburocratizzazione, togliamo certificazioni e così via, aiuteranno le imprese del Sud.